Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, anche Alfonso Signorini parla della loro storia. Il conduttore del reality di Canale 5 ha voluto dire la sua sulla storia nata all'interno della casa del grande fratello tra l'attrice e il barista Bidello. Tutto è nato quasi per caso, un bacio e poi i due si sono avvicinati sempre più. Ci sono state già le prime discussioni, come ogni relazione che si rispetti. Inoltre c'è chi è pronto a giurare che tra i due ci sia stato anche il primo rapporto all'intimo. Mentre nel pubblico molti non vedevano l'ora che i due si lasciassero andare negli ultimi giorni i coinquilini hanno espresso i loro dubbi sull'autenticità del rapporto. In alcune occasioni è stato lo stesso Giuseppe a manifestare alcune perplessità che gli altri hanno prontamente ingigantito. D'altra parte Beatrice non gode di grande simpatia nella casa. Poi è arrivata anche una segnalazione di una veccia conoscenza del Geffino che ha detto che la storia con Beatrice è solo un modo per stare al centro dell'attenzione. Su Chi Magazine una lettrice ha scritto Al grande fratello 2023 la liaison tra Beatrice, una rosa rossa con spine accuminate in un cesto di patate novelle, e Giuseppe, l'unico individuo che ha sentito, in lei, non le spine, ma il profumo, ha il sapore di questo autunno tardivo, con l'incursione di una inaspettata estate. Lo sguardo giovane e curioso di lui, tuttavia, tradisce sorta di impossibile scommessa da vincere, mentre gli occhi disincantati di lei esprimono l'illusione del ritorno di una seconda stagione calda, destinata a finire presto per chi, come Beatrice, avanti negli anni, facile preda di una vaga nostalgia di amore. Si sa, scrive ancora, noi signore over e o nonne o streghe, ormai trasparenti per i più, possiamo attirare l'attenzione altrui non certo per le nostre fusa, quanto, piuttosto, solo per i nostri graffi. Questi reality show, soprattutto sotto la tendenza moralizzatrice imposta, Giustamente, dagli autori, sono di base fiction movie e dimostrano ancora una volta che la realtà virtuale di uno schermo è puro fake illusorio. I baci tra Beatrice e Giuseppe, lei a labbra strette per pudore, lui con poco trasporto per prudenza, lo testimoniano ampiamente. Alfonso Signorini ha subito risposto, le emozioni che prova Beatrice le assicuro che sono autentiche. Certo, i suoi baci verso Giuseppe non saranno appassionati, come vorremmo. Sono baci consapevoli, espressione di un rapporto fatto di presente e non di futuro, un rapporto vissuto con maturità e con quel prezioso disincanto che l'esperienza di vita ci regala. I primi a non essere convinti di questa relazione sono proprio loro, Giuseppe e Beatrice, e questa loro resistenza mi piace, perché esprime maturità. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.